assalamu alaikum to aska amra oddhai ec dui avanti strada pericolo evo divieto strada rasta carreggiata marcia piedi corsia isole di traffico salvagente da percorsi di accelerazione corsi di isolazione banchina bianco continua dopo striscia bianca continua pericolo deformata addosso un età forte vento laterale strada sdruccelevole banche raccedevole divieto transito senso vietato divieto srpaso divieto transito autovicoli divieto transito vichicleta divieto transito pdoni ec a carter legula sikhe chichi pori chichi kujo kore chichi eakon amra ae tini dhari dhari da carter legula ake ecotre ni ecvist qorbo thale hoi loki aamra gato class a pericolo kori chela aam taro kisoo kushto amra eakon paabo revise ueja aach automatically so amra protect di noto na dhai shikbo protect di noto na video dhekbo kintu otit bhu lbona aamra jodhi ishtra da pedicolo ropa quiz practice naa kori aamra johanneke astra ssyaamnag aabo pishanag gula bhoi tte thakboi patranta parayamon ae tni pora aapne rarning hove tte continue pora asuna korete 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 puri khayade efel thabbe jodhi gap dhean shabh bhoiila jahaveen toyera guntte yaarom jodhii ntunadda shikhi ntunadda shish kori ntunadda shish kori ntunadda shish kori tahole pishanag gula Quindi no, 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 no. grazie a tutti Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 a tutti.